Siamo io e te E perchè tu top? Siamo io e te in missione Non so, voglio giocare zed top Fatti un attimo zitti che avete già reso l'idea E dove mi d'ho capito scusa eh? Cioè tu stai cercando di registrare in ts mentre in bus gioca a lol Cioè perchè sei così masochista? Perchè signor Dukan, ah ma io sono Dukan Andiamo sul server days dai Allora da perro del fronzo ed anche il culo di jolly E sennò mi sentite perchè qui non l'avete dato troppo basso Che cazzo di coglione Perchè ti ho giunto tra gli amici di facebook No non è vero non ti metto giù Dai salutatevi Cioè vabbè jolly ormai Ho già preso quattordi Ma che vero sono Cioè ormai a raggiungere quel punto Mi giuro che fare l'assassin credo camminando è la cosa più noiosa del mondo E perchè stanno sparando? Per il punto della for- No non posso E se adesso mi stanno sanguinando Che vuol dire che l'audio è abbastazzato Cazzo jolly Poi jolly ti ho messo più di ci mi sembra Iscritti Perchè adesso anche l'audio si misura iscritti Ah ok Come anche l'audio mi sono discritti cazzo Per te che alzo un po' l'audio del tuo gioco non si capisci un cazzo Ehm dove si faceva in opzioni Se non lo so Dialoghi Vi metto dialoghi a 5 e così non rompete coglioni Infatti lo sono Ah guarda come si sente Piacere mi non so come si sente Non lo so Boh questo qua ce la faccio sfigurata Oddio Mi ha disconnectato il tuo canale La incontraste anni fa al ballo in maschera di tu Ma chi ha I know very well english Diabolicamente I speak very well Vedo che l'abbè cosa Mi fai dire che Ma come persone per ingelosirti C'hai in faccia un Un vermio solitario Non so cosa hai in faccia Ma guarda c'è una cosa Un vermio solitario Cos'è un vermio solitario Questo è francese? Da cosa lo deduci Perché c'è un naso lì in su? Ma no perchè parla lì in su No perchè ride No perchè se chi in alto ci fa il culo sport Ah ok Quanto amo queste battute sui franchieri Oppure perchè per placarlo bisogna testata Cosa devo fare? Avete in mano le mie migliori pistole doppie Avete in mano le mie migliori pistole doppie Ducan Tiratele fuori Premi Premi un tempo combattevo con il caldo che ne bastava 9 Premete 4 Ok Estrai le spi... Eh? Ok Cosa sto facendo? Che figata Ok Vi sfido No? In che senso? Parla con gli ospiti Sfida Sì ma devo ricaricare Per prendere il culo Sì ma aspetta Lasciutti Lasciutti Ricordate Colpiteli tutti nel tempo stabilito Nel tempo stabilito Oh TAM 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 Come faccio a prendere quello là? Fermo No 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 TAM No aspetta 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 che sta finendo il secondo da ricerca queste armi che tipo ci vuole un esercito Eh ma qual è il brutto di quella missione? Non capisco Uh ce l'ho fatta No come ha peccato Non cazzo La stessa cosa che ho detto io Quando ho fallito la missione per l'ottavo oggi Ecco una sfida semplice Colpite tutti i bersagli Non ce la posso fare eh Devo riuscirci Ricordate Colpiteli tutti nel tempo stabilito Sì ho capito che devo colpire tutti nel tempo stabilito Però non mi romperla il cazzo PAM Beh guarda quello positivo Pino E forse è l'unica missione in cui ha le munizioni infinite Infatti mi sto divertendo con Mayan Non ti sento grugnire Cos'era questo? Se poi avrà un grugnire Ce l'ho fatta Aspetta che ricarico che se posso affrontare delle munizioni Sì delle munizioni Delle munizioni la faccio più che volentieri Lui Vuotati... Devi svuotarti tutto l'inventario Delle munizioni Che poi in automatico ti lo rimetti un assassino Ah sì sì Ah no non l'ho fatto Vabbè proprio Distrutte Temo Non più riparabili Aha Fino al cheating Sì Due cose che non hai ancora imparato da carmi Eh no Scegliete pure E grazie a Dio non lo farò Eh da una parte un bene Dove le avete trovate? No mi danno la lama celata Non le ho trovate Le ho prese Le lame celate Sono dei souvenir Le lame cerate Cerate Perché sono... Sono lucidate a... Con la cera Mi sono mancate tantissimo E so che Max si è lamentato perché pensava che... Perché... Oddio C'è che cosa si è lamentato Max? Che non faccio uccisioni stilt Adesso che c'ho le lame celate mi diverto un po' di più Max beccati queste Ecco io C'è quando posso uccidere le persone Abbiamo organizzato un attestamento proprio per il vostro... Sarebbe un vero peccato non vedervi in azione Ok spazio che fate le missioni tipo uccidere i pagliacci Sì ma c'è... C'è una missione che tipo devi uccidere un po' di gente su una nave No ma tranquillo non ci stai spoilerando troppo Tranquillo Ma che cazzo hai fatto il posto per ingerare su le nande per cazzo di gioco Uh guardati Max guarda 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 pigliati questa Mangiala a me Cosa devo fare? È ingegnoso usare balle di fieno per nascondersi Che ne dite? Devi ammazzare gente Guarda Max eh Tipo io vado qua Devi ammazzare i fantocci Poi plup Eh lo fa Vedi? Ecco il segreto E posso uccidere anche le galline Muore di te muore di te Il vantaggio della sorpresa non va sottovalutato La prima del personaggio nel gioco si chiama Carva e ha vinto il gioco automaticamente Ma come? Eh vabbè è così che funziona Infilati tra i passanti E Flak E Flak Il Dio mi fulmini è un trucco astuto Ma si sa che è un trucco astuto Le uccisioni in volo sono quasi poetiche Quella Stai addirittura Duncan Quelle macerate Sono armi e tali Quindi quando passi in mezzo alla gente Uccidili tutti Sì Presummo che Max dirà una risposta del genere Esatto sì Prevediamo le mostre di Max Uaah pfff No ho sbagliato Ho tipo Failato di brutto Se ce l'ha po' Cosa sta facendo? Ma cosa? Ma Mai Smettila Ma ti immagini tipo Ti ti gratinassono E ti parte la lama ce l'ha dove fai Ma perché? Ma semplicemente ti stai facendo un bidet Oh fuck La lama proprio Che ne so Fra una Una Un Tra un molare Cioè Questo qua ha fatto la domanda Ma è possibile uccidere le persone anche quando si corre? Ma che domanda è? Ha ha Che stupida domanda Guarda Comincio a correre Nooo Beh beh Gli assassini vi hanno pieno spogliare che poi l'assassino meglio dopo Un bel rischio immagino Tu non lo sai Si ma lui non è un vero assassino Ma dice anche stallone da culo Vero? Un cavallo piotto in avanti Corro volentieri il pericolo ogni volta Pino non posso spogliare No ma lui Cioè dall'inizio si vede che lui è un assassino Uccide un assassino per rubare la cosa O dovete incontrarlo come me Cioè lui è un pirata Pistole Spade E' un max E' un max E' un bronzo E' un bronzo Esatto Ora ho capito perchè si dice faccia Capito Capito Capitano Rogers Si trova qui Allora So anche perchè Max sia bene E' una faccina Ma non saprei No ma No io Max lo li voglio bene Ciao Max Max li voglio bene Metti un'annotazione tu dici che mi vuoi bene anche tu sono Grazie Grazie a tutti. 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 Ben fatto. Grazie a tutti. Sono morti. Tu corre. Dai. Dai. Vai. Grazie a tutti. in posto. Come fermato. Grazie a tutti. che io. Io si. è a casa di Max. Esatto. la sua vita. con le missione. io. con le missione. non me ne ero. se mi trovano. bene. tutte le pistone. si. 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 in minecraft. ,